Musica Buonasera e bentrovati amici telespettatori con la seconda edizione di All News, l'informazione targata TVRS che arriva dalla redazione di Recanati. L'intera comunità di Porto Potenza e più in generale di Potenza Picena è in lutto per la prematura scomparsa di Chiara Bordoni, 51 anni. La donna si è arresa dopo una malattia. Appena saputa la notizia in tanti si sono stretti alla famiglia della donna. Bordoni in passato aveva aperto una libreria donna solare stimata e ben voluta da tutti. Su Facebook in tanti hanno scritto parole di ricordo e affetto verso la giovane donna prematuramente scomparsa nelle scorse ore. E andiamo a vedere adesso il primo servizio dell'edizione odierna con lo sciopero dei Vigili del Fuoco che ha interessato anche la provincia di Macerata. Le motivazioni nel servizio di Andrea Verdolini. Indennità quattro volte inferiore agli altri corpi dello Stato e ritardi eccessivi nelle promozioni del personale. Per questo i Vigili del Fuoco di Macerata hanno diritto allo sciopero di quattro ore dalle 9 alle 13 di ieri, proclamato dal sindacato CONAPO. Fra le motivazioni dello sciopero c'è l'inaccettabile ritardo nelle promozioni del personale e nei pagamenti degli scatti convenzionali, per il quale chiediamo di anticipare, si legge in una nota, i tempi per il futuro. Poi la mancanza di notizie sulle date di assunzione di 654 unità del Corpo Nazionale già da tempo autorizzate, il mancato adeguamento dell'indennità per il lavoro notturno e festivo a quelle degli altri corpi dello Stato, che ricevono un trattamento ben quattro volte superiore al nostro, oltre che buoni pasto con valore ridicolo e non più sufficiente a garantire la consumazione della mensa di servizio da parte dei pompieri, che debbono prestare soccorso ai cittadini. Per la provincia di Macerata sono state interessate dallo sciopero le sedi del comando di Macerata e i distaccamenti di Civitanova, Camerino, Tolentino e Visso. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte del CONAPO, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha finalmente accolto alcune nostre richieste, bandendo il concorso caposquadra 2023, decretando le promozioni a ruolo aperto e gli scatti retributivi e regolamentando le ferie solidali. Ma restano ancora tante e troppe criticità e troppi ritardi da risolvere, i Vigili del Fuoco meritano più attenzione e non soluzioni in perenne ritardo. Questa mattina la sindaca Moira Canigola di Monteurano ha firmato l'atto di ritiro delle delughe di assessore all'urbanistica, ambiente e sport conferite a Massimo Brasili, componente dell'attuale amministrazione comunale. L'atto è motivato dall'annuncio pubblico avvenuto ieri nel corso di una conferenza stampa della candidatura di Brasili a sostegno di una compagine politica che si presenterà alle prossime elezioni di giugno come alternativa all'attuale amministrazione. La Canigola ha sottolineato che la decisione di rievocare le deleghe a Brasili è stata presa al fine di mantenere l'omogeneità e l'efficacia dell'amministrazione comunale nel perseguire gli interessi della comunità di Monteurano. La nomina degli assessori è basata sulla discrezionalità del sindaco e tale scelta riflette una fiducia pienamente personale. A questo punto viene però meno il rapporto di concordia tra i membri della giunta comunale. Si rende difficile perseguire gli obiettivi programmatici stabiliti. La revoca delle deloghe di assessore a Massimo Brasili è entrata in vigore immediatamente dopo la notifica ufficiale. La sindaca ha ora in capo le deleghe appartenute a Brasili in attesa di reintegrare la giunta nei prossimi giorni ed ha ribadito il suo impegno a garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa a beneficio dei cittadini. Nel prossimo servizio parliamo dell'operazione dei carabinieri a fermo presso il cantiere dei lavori al mercato coperto. Sentiamo cosa è emerso dal nostro servizio. I carabinieri del comando provinciale di fermo insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno hanno condotto uno specifico servizio sul rispetto delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il controllo ha interessato il cantiere dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione con interventi di efficienza energetica dell'ex mercato coperto di fermo finanziato con fondi per progetti di rigenerazione urbana nell'ambito del PNRR. L'appalto è stato aggiudicato da un raggruppamento temporaneo di imprese. Durante il controllo sono stati identificati 12 operai, 5 stranieri in regola con la normativa sul soggiorno, dipendenti delle due imprese interessate riscontrando gravi violazioni alla normativa prevista dal testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli amministratori unici delle due imprese sono stati deferiti in stato di libertà per gravi violazioni in particolare relativamente alle norme riguardanti la difesa delle aperture, la viabilità nei cantieri, la rimozione dei dispositivi di sicurezza, la mancanza di protezioni verso il vuoto, gli obblighi del datore di lavoro e l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Sono state irrogate ammende per un totale di circa 40.000 euro e il cantiere è stato sospeso. Le sanzioni sono poi state saldate e il cantiere riavviato. E c'è grande fermento nel Piceno per le prossime elezioni per l'elezione del nuovo CDA della Banca del Piceno. Tre dovrebbero essere le liste ai nastri di partenza. Nelle ultime ore si è presentata quella capitanata da Raffaele Tassotti volto noto e stimato della comunità che ha svolto per ben 5 mandati da sindaco di Montalto Marche e due mandati di consigliere provinciale di Ascoli Piceno. Vicino a lui un nutrito gruppo di professionisti di vario genere. Ecco i nomi Stefania Simonetti, Marcella Liodori, Dina Capretti, Mario Dibuo, Mascia Mancini, Bernardino Traini, Walter Massucci, Giuseppe Traini, Romeo Di Girolami, Ugo Carboni e Gian Pietro Casagrande. Nel prossimo servizio invece andiamo al ridotto del Teatro delle Muse di Ancona dove si è tenuto un interessante convegno sul diritto alla felicità organizzato dall'Ordine degli Avvocati. Sentiamo Claudio Comirato. Siamo al ridotto delle Muse per un convegno sicuramente interessante, un convegno anche coraggioso che ruota attorno alla felicità. In questi tempi così tormentati e privi di immaginazione sul futuro parlare appunto della felicità, del diritto alla felicità e organizzare come vi dicevo un evento è certamente un azzardo. Ma il congresso è stato organizzato grazie ovviamente alla disponibilità della Treccani, grazie all'Ordine degli Avvocati di Ancona ed ha visto la partecipazione di tanti tanti avvocati. Proprio per parlare di un argomento così importante, a volte anche astratto, come può essere la felicità. Il diritto esige una certezza definitoria, la felicità in realtà non può avere una definizione perché è molto soggettiva, fa parte anche della propria coscienza, della propria esperienza, dei propri desideri. Però non sempre il diritto ha una certezza definitoria. Anche la bellezza del diritto è che è una grande capacità di elaborazione continua, costante. Vive nel mondo il diritto, come la felicità, non necessariamente staticamente inserita in un contesto storico immutabile. La felicità ha anche un suo contrario, che è la tristezza. Io dicevo prima all'inizio che ogni potere dispotico ha come modello il cittadino triste. La felicità è un antidoto al cittadino triste e un antidoto al potere dispotico. Poi noi avvocati lo sappiamo bene che tutti i giorni siamo costretti e dobbiamo difendere i diritti individuali nei confronti di un potere che può essere non solo dispotico ma anche prevaricatore. Che legame c'è tra la felicità e la treccani, che è un po' il simbolo della cultura in Italia? Assolutamente. Cultura è felicità. E questa è una delle prime cose. Ma sostanzialmente quello che ritengo più giusto è quello che negli ultimi anni è diventata treccani. Treccani oggi non è solo ovviamente cultura attraverso il nostro mondo enciclopedico. Oggi Treccani realizza progetti artistici di grosso spessore. È perché un'opera d'arte non rende felice averla, possederla, farne parte, esserne partecipe o aver restaurato o contribuito a restaurare un'opera d'arte. Anche questa è felicità. E Treccani propone questo. Il questore di Ancona ha emesso nella giornata di ieri un cosiddetto daspo urbano di un anno. Il provvedimento nasce a seguito di diversi interventi da parte delle forze dell'ordine nella zona di Falconara, nei confronti del soggetto romeno di circa 42 anni, con diversi precedenti. In particolare giungevano segnalazioni dell'uomo in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol che assumeva atteggiamenti incontrollati nei pressi di Via Flaminia vicino a negozi e scuole dove veniva segnalato più volte come soggetto molesto. L'uomo aveva ingenerato un senso di timore nei passanti e soprattutto aveva tenuto le sue condotte in un'area frequentata e dove insistono esercizi pubblici e plessi scolastici. L'inosservanza del daspo, ricordiamo, comporta l'arresto. Nel prossimo servizio invece andiamo a vedere il grande successo di pubblico al Teatro La Fenice per celebrare i 30 anni dell'Associazione Oncologica Senigalliese. Sentiamo Andrea Verdolini. Emozioni e divertimento ritrovandosi tutti insieme come parte di una grande famiglia. Questa in sintesi la serata evento che ha visto centinaia di persone presenti al Teatro La Fenice di Senigallia per celebrare il trentesimo anniversario della nascita dell'Associazione Oncologica Senigalliese Valli, Misa e Nevola in occasione del concerto insieme per l'Aos, 30 anni di Aos. Stefano Spazzi, Corrado, Dario Pescosolido con Claudio Turpetti insieme a Giovanna Diamantini oltre a Universe Sound, Moliendo Caffè, Mare De, Marco Poeta e il gruppo dei Beatles Senigallia tutti insieme per regalare al numeroso pubblico a corsa alla Fenice alcune ore nel segno della solidarietà e dell'amicizia nei confronti della realtà a tutti gli effetti patrimonio della città e del territorio che ogni giorno, 24 ore su 24, pone al centro della propria attività l'assistenza a tutti coloro che purtroppo devono affrontare la lotta contro i tumori fornendo un importante sostegno anche alle relative famiglie. Una delle massime espressioni di quella che è la solidarietà e l'attenzione nei confronti dei più deboli ovviamente attraverso quella che è l'attività medica infermieristica che viene fatta presso la casa dove appunto le persone si trovano. Per noi è un grosso vanto poter essere appunto la città dove l'Aos non solo opera ma risiede come in tutte le valli del Misa e siamo estremamente contenti questa sera per i suoi 30 anni. Posso dire che l'associazione è estremamente integrata all'interno della realtà fa parte del patrimonio appunto sociale dei singoli anche cittadini ed è parte della nostra vita per cui questa sera è una festa di tutti. La cosa importante è che 30 anni fa 10 persone versando 50 euro per uno anche 50 mila lire per uno fondarono l'associazione oncologica senigallese. A queste 10 persone noi dobbiamo essere tutti estremamente grati. La nostra associazione è esplosa grazie al contributo di medici, infermieri, dei volontari ma soprattutto grazie al contributo della gente che c'è molto riconoscente. L'equipe sanitaria è fondamentale per l'Aos. L'equipe sanitaria è composta da un medico, da quattro infermieri, da due psicologhe importantissime, da un assistente spirituale che è Don Maurizio e dalle volontarie. Noi appena veniamo contattati o dal medico o dalla famiglia andiamo subito a domicilio del paziente e seguiamo il paziente e la famiglia. La famiglia viene seguita anche dopo la dipartita del paziente. Lascia la nuova e costosa bici a pedalata assistita per pochi minuti all'esterno di un bar per poi non ritrovarla. Denunciato il furto si sono messi in azione gli agenti della polizia locale a Castelfidardo che in meno di mezz'ora hanno fermato l'autore del furto con il mezzo al seguito. Condotto in comando per le formalità di rito, il presunto autore è stato da prima foto segnalato e poi deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà, mentre altre indagini parallelamente condotte permettevano di appurare che il medesimo soggetto, forse in compagnia di un complice, si sarebbe reso responsabile poco prima anche di un furto consumato all'interno della chiesa della collegiata. Ed ora siamo arrivati alla parte sportiva e dunque andiamo con la sigla. Nel pomeriggio, come di consueto, tanti match dalla Serie D, Serie C ed eccellenza in C. Ancona-Carrarese 2-2 e Fermana-Spall 1-1. In Serie D, Atletico-Ascoli-L'Aquila 2-1. Avezzano-Riccione 2-2. Fossombrone-Sanbredettese 1-1. Roma-Siti-Matese 2-2. Roma-Sora-Termoli 3-0. Tivoli-Chieti 2-0. Vasto Girardi-Real-Monterotondo 0-1. Vigor-Senigallia-Campo Basso 2-5. In eccellenza, Monturano-Castelfidardo 1-1. Chiesa Nuova-Colli 1-0. Civitanovese-Montegranaro 0-0. Jesina-Montefano 0-2. Urbino-Sangiustese 1-0. Maceratese-Batte-K-Spor-Gallo-Montecchio 3-2. Osimana-Tolentino 2-2. Urbani-Batte-Montegiorgio 3-1. Nel prossimo servizio andiamo a vedere la partecipazione record alla Ultra Maratona del Conero a Porto Recanati. Vediamo il servizio di Mario Giannini. La terza Ultra Maratona del Conero Memorial Mimmo Strazzullo verrà ricordata come quella dei record. A partire dagli iscritti oltre 750, passando per il record italiano ottenuto da Federica Moroni in 7 ore 27 minuti e 50 secondi a quelli relativi alla 50 e alla 30 chilometri. Ma andiamo per ordine. Lo svizzero Pascal Ruger si è giudicato la manifestazione con il tempo di 6 ore 41 e 32. Il corridore elvetico, secondo lo scorso anno, alla Lake Zurich, sulle strade di Porto Recanati si è esaltato cogliendo una vittoria forse inaspettata. Ruger ha preceduto i due precedenti vincitori della prova. Marco Menegardi, del gruppo sportivo Robie, che difendeva il titolo e che ha chiuso in 7 ore 31, e Massimo Giacopuzzi, dell'Unione sportiva Dolomitica, primo nel 2022, è staccato di 9 minuti. Come detto nel femminile, Federica Moroni aggiunge un'altra perla a sua palmarès. L'ex campionessa italiana di Maratona, tesserata per la Dinamo Sport, si è giudicata la prova in 7 ore 27 primi e 50 secondi, tempo che le ha permesso di chiudere a sesta assoluta, ma che soprattutto è il nuovo record italiano sulla distanza, caduto dopo ben 21 anni. A farle compagnia sul podio, Eva Grisoni, atletica paratico, staccata di 24 minuti, e la campionessa italiana sulla distanza, Ilaria Bergaglio, atletica novese. Nella 50 chilometri, prima posizione per Marco Redaelli, Avis Oggiono, che in 3 ore 0-3 e 0-3, record di categoria del cinquantenni, ha prevalso per un primo e 41 secondi su Giacomo Ambrosini, polisportiva Santa Lucia. Terzo, Michele Placucci, del gruppo sportivo Lamone, a 10 minuti di distacco. Elena Fabiani, della Gruttini, si è imposta nella gara femminile alle 50 chilometri, in 3 ore 49-23. Anche qui, record della gara, con un vantaggio di 11 minuti sull'australiana, compagna di colori Angela Emi Castellani. Terza, la rumena Monica Ionica Circiu, del club Super Marathon Italia, più staccata. Primati anche per la 30 chilometri maschile, con i successi di Ruel, Guillem e femminile per Denista Padà. Gara questa con un gran numero di partecipanti, oltre 440. Un grazie anche alla regione Marche e al comune di Porto Reganati, che hanno dato il loro patrocinio, e a tutte le associazioni che non hanno fatto mancare il loro appoggio. Appuntamento al prossimo anno, per una gara ormai entrata nel calendario di tanti appassionati, anche stranieri, considerando le tante nazioni rappresentate. Ed era questa la nostra ultima notizia, ma vi ricordo di rimanere collegati con il mondo TVRS, dando un'occhiata al nostro giornale online utvrs.it, dove ci sono notizie di sport, cronaca e attualità, a giornate 7 giorni su 7, e ovviamente anche il sito tvrs.it, dove sono catalogati tutti i nostri TG e le varie trasmissioni che la nostra emittente costantemente produce. Vi ricordo l'appuntamento di stasera, a partire dalle 21 con le Marche nel pallone. Per quanto riguarda l'informazione, invece, ci vediamo domani a partire dalle 12.50. Arrivederci, buona serata. Asset, fai la differenza, fai la differenziata.